Eccoci insieme al maestro Sebastiano Bellarte per parlare di un grande evento che si terrà domani ad Avola al Teatro Odeon. Di cosa si tratta? Bene, buongiorno a tutti. Si tratta della presentazione del CD Terra Canonsenti, il terzo lavoro discografico della banda musicale Città di Avola. e praticamente terremo il concerto con la cantante Rita Botto, in quanto questo CD l'abbiamo registrato insieme presso il Teatro Odeon Garibaldi di Avola la scorsa estate e quindi terremo il concerto con tutti i brani appunto contenuti in questo CD. Ecco, parlaci insomma di Rita Botto, noi la stiamo aspettando con grande ansia. Rita Botto è una cantante catanese e fra le altre cose direi, mi potrei permettere di dire benissimo, che è l'erede di Rosa Balistreri e tra le più belle voci femminili siciliane e quindi per noi è un grande onore aver prodotto questo CD insieme a Rita Botto e quindi insomma collaborare con questa grande artista. E' la vostra prima collaborazione con lei? Con lei diciamo che è la prima, nel senso che abbiamo iniziato questa collaborazione già la scorsa estate con un concerto tenuto sia a noto per l'occasione dell'apertura della Notte di Giuffa e quindi in quell'occasione poi è chiaro che si è deciso di registrare un CD e quindi detto fatto. Il vostro terzo CD? Sì, il primo CD l'abbiamo registrato nel 2003 a Banna, prodotto dalla Felmai con la produzione di Roy Baci e Fabio Barovero e l'abbiamo registrato nel 2003, poi il secondo nel 2010 con il cantavutore bolognese Mirko Menna sempre per la Felmai con la produzione di Fabio Barovero e quindi siamo arrivati al terzo disco prodotto però da Roy Tarant per la Recording Arts che è una casa discografica di Cuomo. Insomma una grande soddisfazione. Sì, senza altro grande soddisfazione mia e di tutti i ragazzi della banda di Avola perché questa è la dimostrazione insomma che della banda se ne parla non solo in città ma anche altrove e quindi la credibilità di cui godiamo non può farci altro che un immenso piacere. A telecamere spente parlavamo di sold out? Sì, diciamo che da un lato sono contento perché in meno di una settimana abbiamo raggiunto appunto il sold out, tutto esaurito, non ci sono biglietti neanche al botteghino, abbiamo venduto tutto in pre-vendita e quindi il teatro sarà pieno di gente e quindi siamo contenti da questo lato. Però dall'altro lato ci dispiace per molti amici e molta gente che ci hanno chiamato anche non solo da Avola ma anche fuori Avola però gli ultimi giorni e quindi insomma al nostro malinguore abbiamo dovuto dire che insomma è tutto esaurito e in effetti volevo comunicare che stiamo pensando a una replica adatta da destinarsi. Dunque potremmo assistere a un bis? Sì, penso proprio di sì perché le richieste sono state tantissime. Allora in bocca al lupo. E vive il lupo.